Luigi Nuzzo, abitante della contrada San Domenico, Lama Taranto, siamo qui nelle adiacenze in via Mediterraneo, nei pressi via Mediterraneo esattamente quasi ad angolo con via San Domenico, in prossimità della rotatoria. Come vedete una strada trafficatissima, soprattutto d'estate perché è la strada che poi conduce alla litoranea, un flusso veicolare enorme e c'era proprio in prossimità della rotatoria un dosso che serviva, un dosso artificiale ovviamente, che serviva a determinare un rallentamento onde evitare incidenti. Quindi misteriosamente, stranamente il dosso viene rimosso e la pericolosità quindi ritorna nello status quo. Gino Nuzzo, lei vive la zona abitandoci da decenni, è inspiegabile questa rimozione? Allora, premesso che l'altro giorno c'era un incidente proprio qui all'angolo, proprio all'angolo con San Domenico, perché la gente per poter entrare nell'aria, nel flusso della rotatoria, deve affacciarsi leggermente col muso dell'auto. E' arrivato un'auto che andava discretamente veloce, discretamente veloce, discretamente veloce, discretamente veloce, per entrare nell'autodattore si sono presi. Ora, dico, fortunatamente è carrozzeria che va in riparazione, però una mossa... Ci sono anche le ossa umane, eh? Ci sono anche e soprattutto le ossa umane. Io dico semplicemente una cosa, lì c'è stato posto e di nuovo ripristiniamo il dosso col punto derogativo, perché c'era il dosso. Ma se l'avete messo, abbiate pazienza, scusate, dateci una spiegazione, ma se l'avete messo, molto probabilmente c'era la necessità, perché è stato rimosso? Al fine poi quella rotatoria, lo sapete cari amministratori, è sbagliata, nel passato avete commesso un errore, perché le rotatorie non si fanno entrando nel flusso in linea diretta. Va fatta messa prima. Va fatta con un sistema di rotatore, perché uno deve arrivare nel flusso, deve poter evitare il rotatore e quindi è costretto a rallentare. Con questo sistema si entra direttamente con tutto il pericolo che crea questa rotatoria stessa. Poi mi togliete anche il dosso, fate voi, fate voi le vostre analisi e vedete un pochino come dovete risolvere il problema. Grazie a tutti.